Progetto Arezzo perché questa città merita di essere amata. Progetto Arezzo perché questa città merita di essere curata. Progetto Arezzo perché questa città merita la nostra attenzione. Progetto Arezzo è un'associazione nata per progettare nel tempo e per il futuro la città che vogliamo. Noi abbiamo già aderito, perché non lo fai anche tu? Via email ad associazione progettoarezzo chiocciolagmail.com oppure al numero 335 8013667. Progetto Arezzo ama la tua città come te stesso.